Buongiorno, bentrovati. Mattino 6 di giovedì 14 gennaio 2016, la nostra consueta e quotidiana rassegna stampa. Partiamo prima dell'apertura dei quotidiani dal Santo del Giorno che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica proprio nella giornata del 14 gennaio. Si tratta di San Felice da Nola, dunque andiamo in Campania. San Felice, sacerdote Nolano, posto in prigione dai nemici di nostra Santa Fede, fu liberato da un angelo che lo condusse ad un monte dove diede soccorso a San Massimo, Vescovo di Nola, ivi nascosto e consumato dalla fame e dal freddo, animava i suoi concittadini alla pazienza nella grave persecuzione che per divina permissione muovevano contro i fedeli gli idolatri e con l'esempio suo insegnava loro il modo di farsi strada per mezzo della sofferenza e delle miserie temporali perseguitato di nuovo dagli infedeli, miracolosamente Dio lo liberò dalle loro mani facendo che passasse in mezzo a loro e che gli parlassero senza che loro riconoscessero. Onde pensavano a cercarlo in altra parte quando da certi maligni manifestato si salvò fra alcuni dirupi dove coperto all'improvviso con tele di ragno dalla divina provvidenza non fu veduto dai suoi persecutori non si curò di recuperare i beni che gli erano stati tolti dai nemici della fede sprezzando ciò che di buona voglia aveva già per amore di Cristo abbandonato ma operando e faticando si mantenne sino alla morte con i frutti del suo orticello che lavorava con le proprie mani. San Felice di Nola, confessore e martire ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. Allora siamo ai nostri quotidiani come sempre apriamo con il centro con le quattro edizioni con i titoli delle prime quattro edizioni partiamo dall'edizione di Pescara del quotidiano d'Abruzzo i titoli principali l'apertura ancora una volta come nei giorni scorsi riguarda il problema smog in città oggi di nuovo targhe alterne circoleranno le auto con targhe di spari smog però in calo oggi di nuovo targhe alterne polveri scese sotto i limiti e poi la fotonotizia i precari rompono nella sala consigliare con bambini e striscioni c'è stata questa protesta pacifica ieri degli interinali di Attiva che da sabato scorso sono in presidio permanente sotto palazzo di città ieri c'è stata questa occupazione simbolica per circa tre ore della sala consigliare poi nelle cronache piazza salotto aspetta lo sbarco di mcdonald dunque ci potrebbe essere la catena americana al centro di Pescara con un nuovo locale poi da Pescara spalato sull'idrovolante e dal 2 febbraio sarà possibile questo nuovo collegamento tra le due sponde dell'adriatico proprio per mezzo di uno di un idrovolante e poi il calcio il calciomercato dunque lo sport il Pescara cerca un difensore scarica Domizi dell'Udinese e punta su Spolli del Carpi e poi questa notizia di cronaca restata madre di 12 figli stroncato lo spaccio in una casa popolare nel quartiere Rancitelli a Pescara lasciamo la prima pagina del centro proprio dell'edizione di Pescara andiamo a vedere insieme invece i titoli dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto anche in questo caso i titoli della prima pagina andiamo subito a Casalbordino per il titolo principale esce dal come accusa il compagno Casalbordino racconta ai carabinieri delle botte prese e lo fa arrestare e poi la fotonotizia che riguarda la dynasty di Lanciano il PM dice infatti condannate Franco, Valentina e Guglielmo Maio Franco Maio e Valentina Maio vedete nella foto si tratta di una dynasty familiare che riguarda proprio la famiglia Maio e alcuni parenti per una vicenda che poi andremo a leggere insieme proprio nelle pagine interne del centro e poi le cronache, eruzione alla caripe, banda confessa, serata di coca prima del colpo e poi a Casoli fuga notturna dalla casa in fiamme infine il progetto uno studentato da 600 posti in centro a Chieti ieri la presentazione di questo importante progetto in regione a Pescara con la presenza del governatore Luciano D'Alfonso del sindaco del capoluogo teatino Umberto Di Primio dell'assessore regionale Marinella Sclocco e poi prima di passare all'edizione del centro di Teramo un ultimo titolo che riguarda anche in questo caso la cronaca aggredito il rapinato dell'auto Ortona l'agguato in una piazzola di sosta la macchina poi è stata ritrovata siamo come detto all'edizione di Teramo del centro poi chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione teramana del centro che apre sull'inchiesta per la morte della 17enne ricorderete qualche mese fa ritrovata purtroppo priva di vita sulla corsia dell'A14 nella zona di Tortoreto Giulia tracce di un uomo sui vestiti i RIS trovano materiale biologico maschile sui brandelli di stoffe dunque ci potrebbero essere delle novità per capire che cosa è accaduto quella sera questa 17enne di Tortoreto e poi la cronaca terrore sull'A14 a Pineto tiri in fiamme nella galleria il racconto degli scampati all'inferno è successo due notti fa proprio all'interno della galleria Solagne dell'autostrada A14 e poi le cronache no del ministero a Mattioli e senza requisiti parliamo della nomina del presidente dell'istituto zooprofilattico e poi attori amatoriali siamo sempre a Teramo film porno con protagonisti teramani infine si parla sempre di Teramo in questo caso della Teramo Calcio perché dopo Forte arriva Cruciani infine l'ultimo titolo che riguarda la cronaca giudiziaria l'accusa è un finto cieco rinviato a giudizio per truffa un pensionato teramano di 65 anni e siamo all'ultima prima pagina del centro l'edizione di L'Aquila Avezzano e Sulmona poi passeremo al messaggero per dare uno sguardo ai titoli anche di cronaca nazionale poi vi ricordo come sempre intorno alle 7.20 l'appuntamento con il meteo allora centro edizione dell'Aquila corruzione processo per gli stati Avezzano padre e figlia imputati con altri tre per presunte tangenti e poi L'Aquila si parla di viabilità da febbraio tornano i parcheggi a pagamento in centro storico e poi ancora dalle cronache fuga di notizie poliziotti condannati sempre all'Aquila sempre nel capoluogo regionale tanta gente per dire addio a Mariani a Sulmona Caromenza alunni a scuola con il panino infine la cronaca beve l'acido giovane grave in rianimazione all'Aquila indagini sulle cause dell'incidente e chiudiamo dunque con le quattro edizioni del centro andiamo a vedere tra qualche istante invece il messaggero con la prima pagina del quotidiano di Roma le pagine interne di cronaca nazionale poi nella seconda parte come sempre andremo a vedere i titoli di cronaca locale allora prima pagina del messaggero unioni civili numeri in bilico voto il 28 al senato partito democratico diviso i cattolici infatti del PD non sono d'accordo e dicono stralciare le adizioni gay Berlusconi votiamo no alla Camera sarà battaglia sull'eutanasia per la prima volta si discute un disegno di legge sul fine vita poi il titolo che riguarda lo sport la panchina pallotta l'ora di cambiare Roma la svolta di spalletti acquisti e nuovo modulo è stato esonerato infatti l'allenatore della Roma Garzia che dir si voglia al suo posto torna dopo 5 anni a Roma Luciano Spalletti Istanbul arrestati Terrusil kamikaze chiese asilo l'accusa della Turchia dietro la strage ci sono attori segreti poi la vicenda dei Marò la torre in Italia solo fino ad aprile questa la decisione dei giudici indiani e poi vediamo qualche altro titolo che riguarda che riguarda la prima pagina del messaggero uno in particolare di cronaca Ashley caccia al pusher Carlos sembra Monzon perché a Firenze sarebbe stato fermato un giovane straniero che sarebbe accusato di aver ucciso questa 35enne ragazza americana andiamo avanti le cronache cronaca politica in questo caso caos unioni civili alta tensione nel PD Forza Italia dice voteremo no numeri in bilico il disegno di legge in aula rinviato come detto al 28 febbraio fronte del sì in allarme i cattolici dem chiedono lo straccio sulle adozioni Berlusconi chiude invotabile e vedete poi in questa cartina quali sono i paesi in cui diciamo ci sono le unioni civili in quali paesi non ci sono come diciamo è la situazione nel vecchio continente ma per Renzi il testo non cambia sono più i voti che perderemmo dice il premier in Parlamento arriva l'eutanasia prima volta nella storia italiana l'esame del testo in calendario alla Camera per il prossimo mese di marzo proseguiamo salari nessuna sanatoria ora Roma scelga il rigore parla il sottosegretario Angelo Rughetti e dice gli strumenti ci sono il commissario Liusi no a leggi speciali per la capitale i premi di produttività non potranno andare a tutti si parla degli stipendi dei salari e dei premi di produttività per i dipendenti del comune di Roma politica internazionale Istanbul il kamikaze aveva chiesto asilo arrestati cinque membri dell'ISIS tre di loro sono russi il premier turco Dav Toglu annuncia la retata di polizia e parla di attori segreti il ruolo di una donna misteriosa si parla ovviamente di questo attentato che c'è stato in Turchia che purtroppo ha portato anche a diverse vittime poi accuse a Putin crisi tra le due potenze l'imbarazzo di Mosca chiariremo scusate pagina 7 la scelta di Berlino sotto attacco il surplus del fisco va ai migranti il governo tedesco prudente dice nessuna prova che l'attentato in Turchia fosse contro di noi ma molte vittime sono tedesche sventato il piano di un gruppo razzista preparavano un assalto al centro profughi e vedete in basso il figlio inneggiò i terroristi di Parigi espulso dall'Italia operaio della Macedonia andiamo avanti non odiamo l'Islam l'ultimo discorso di Obama il presidente americano alla nazione dice Obama gli Stati Uniti non chiuderanno mai le porte a nessuno sulla base dell'inettità culturale e religiosa Marinzi in ginocchio davanti ai Pasdarane l'incidente con l'Iran imbarazza gli Stati Uniti e poi in basso a fondo pagina il governo libico rischia il flop opzione militare più vicina domenica scade il termine per la formazione dell'esecutivo caldeggiato dalle Nazioni Unite siamo a pagina 9 dalla Russia agli Stati Uniti allarme rosso sul petrolio Medved avverte prepararsi al peggio se il prezzo del greggio dovesse ancora scendere perché il prezzo del petrolio nelle ultime settimane ha avuto un vero e proprio crollo negli Stati Uniti un terzo dei produttori ora è a rischio e Wall Street la borsa americana affonda siamo alla vicenda dei Marò l'India sui Marò dice la torre in Italia fino al 30 aprile la Corte Suprema di Nuova Deli proroga la licenza per malattia del militare la farnesina a decidere dice Hamburgo per ora Massimiliano rimane a casa e siamo alla vicenda del sindaco di quarto i PM dicono il sindaco non ha chiarito Capuozzo dovrà tornare oggi in procura i magistrati non sono soddisfatti dell'interrogatorio fiume di martedì l'avvocatessa non è l'unica ad aver taciuto una consigliera con cui si era confidata al PM ha negato di sapere delle pressioni che ci sarebbero state ad opera della malavita il Movimento 5 Stelle tutti gli eletti Movimento 5 Stelle scusate tutti gli eletti sapevano degli abusi in quel comune questo è il retroscena in questo articolo del messaggero mentre questa fotonotizia vede Beppe Grillo a Firenze in visita a Pitti Uomo poi Rai Superpoteri a Tagliavia coordinerà web reti e palinsesti nuova nomina nella Rai e siamo alla banda dell'acido 16 anni all'alevato così a canimento la studentessa è già in carcere per scontare altri 14 anni in lacrime per la nuova condanna un milione di risarcimento alle vittime e poi Soffiantini l'ispettore ucciso nel blitz rinviati a giudizio due colleghi dei Nox ricorderete il rapimento di Soffiantini poi il blitz delle forze dell'ordine e a morire fu un ispettore della polizia Donatoni sarebbe stato colpito dal fuoco amico ma gli agenti hanno accusato i banditi e poi la tragedia che arriva dagli Stati Uniti da New York bambina 12enne uccisa per errore da un poliziotto siamo alla vicenda dell'omicidio dell'americana Hasley fermato un senegalese a Firenze svolta nelle indagini sul delitto dell'americana l'uomo è stato inchiodato dalle telecamere del comune dunque ci potrebbe essere una svolta e poi la tragedia valanga sui liceali in Egita tre morti sulle Alpi francesi e poi carabinieri in un anno perseguiti 970 mila reati siamo alla pagina che riguarda la sanità 7 mila morti l'anno per le infezioni ospedaliere dopo i decessi di Capodanno per parto ieri una vittima a Isernia senza letto per quattro giorni il ministro attiva una task force allarme degli infettivologi il trend è in aumento siamo alle pagine dell'economia società di stato sotto Palazzo Chigi dietro il rinvio dei decreti della riforma della pubblica amministrazione una norma che toglierebbe la proprietà delle partecipate al tesoro e poi ancora notizie che riguardano l'economia Telecom va in pensione da oggi si chiamerà Tim mentre Ilva via alla vendita con più risorse dunque per il nucleo industriale che si trova a Taranto lasciamo l'economia torniamo al centro per vedere in questo caso anche qualche pagina di cronaca nazionale poi prima del meteo inizieremo a vedere anche le pagine di cronaca regionale siamo alle pagine che riguardano l'attentato di Istanbul l'attentatore entrato come rifugiato tutte tedesche le vittime avevamo visto prima dal messaggero e poi per quanto riguarda Obama si parla alla nazione no all'odio verso i musulmani e poi assalti neonazisti a Moschei in Germania quattro arrestati petrolio a 30 dollari caduta senza fine le economie tremano benzina giù ma non abbastanza e poi ecco chi guadagna e chi perde in Italia infine lo scontro politico quarto 15 consiglieri del movimento 5 stelle ora rischiano l'espulsione poi aggressioni all'acido 16 anni per Martina Levato accaniti su di me ha detto la ragazza in lacrime e poi una notizia che riguarda Repubblica uno dei maggiori quotidiani italiani che festeggia i suoi primi 40 anni il sogno continuo vedete nella foto l'attuale direttore di Repubblica Ezio Mauro il fondatore Eugenio Scalfari e l'editore Eugenio De Benedetti e siamo alle pagine dell'Abruzzo del centro i croati fanno decollare l'idrovolante Pescara Spalato partenza dall'aeroporto e atterraggio sull'acqua dunque questa novità per il collegamento delle due sponde dell'Adriatico e poi all'oggi popolari un fondo islamico interessato al piano di edilizia sociale poi Trivelle e gli ambientalisti le richieste dicono vanno rigettate si parla di politica c'era una volta Forza Italia i berlusconiani l'incubo di un futuro da marginali Pagano punta su Azzurri in vetta Roccaraso per il suo rilancio da coordinatore Marazzi vorrebbe commissariare il partito gli ex-AN insistono per il congresso e poi il nuovo civismo guarda le comunali il futuro di Abruzzo Civico perché ci sono delle novità che riguardano Abruzzo Civico questo movimento politico che è attivo nella nostra regione vedete nella foto Giulio Borrelli uno dei fondatori quindi andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato con la nostra redazione dell'Aquila proprio per capire cosa sta accadendo all'interno di Abruzzo Civico vediamo clamoroso all'emiciclo i consiglieri regionali di Abruzzo Civico Mario Olivieri e Andrea Gerosolimo escono da Abruzzo Civico assieme al coordinatore regionale Giulio Borrelli perché oramai argomentano la lista civica nata a sostegno del presidente Luciano D'Alfonso è monopolizzata nel suo direttivo dalla componente di scelta civica a cominciare dal presidente l'onorevole Giulio Sottanelli un corpo estraneo conferma i nostri microfoni Olivieri e inizia per noi una fase 2 e conferma Olivieri l'imminente ingresso nel gruppo consigliare che cambierà nome di o almeno un altro consigliere Olivieri tiene la bocca cucita ma dovrebbe trattarsi di Maurizio Di Nicola centro democratico presidente della prima commissione bilancio adesso Abruzzo Civico per quanto ci riguarda per il gruppo regionale quindi parlo di Olivieri Gerosolimo hanno si sono dichiarati attraverso una conferenza stampa fuori da Abruzzo Civico per appunto dei dissapori con la direzione nascerà quindi una nuova formazione una nuova formazione avremo una nuova realtà in regione Abruzzo che può darsi che si rafforzi abbiamo già delle trattative in corso il consigliere Di Nicola alcuni consiglieri regionali quindi più di uno può darsi che ne fossero anche più di una c'è questa c'è questa possibilità e adesso ancora presto parlarne perché siamo in fase appunto evolutiva quindi probabilmente ma noi siamo già fuori cioè Olivieri Gerosolimo sono già fuori Abruzzo Civico e superato stiamo lavorando abbiamo avviato un percorso che va oltre Abruzzo Civico Abruzzo Civico fase 2 o qualcosa del genere questo dunque il servizio su Abruzzo Civico avete ascoltato le dichiarazioni di Giulio Borrelli siamo alle pagine di Pescara del centro la prima piazza Salotto aspetta lo sbarco di McDonald's ecco qui il titolo c'è chi parla della fine di febbraio per i primi lavori Sarni proprietario dei locali dice ho avuto richieste anche da Burger King dipende da quello che offrono e a Roma ecco le pizzette di Trieste Riccardo Ciferni tanti pescaresi vedono l'insegna e chiedono se siamo davvero noi dunque la famosa pizzetta di Trieste sbarca nella capitale poi Emilio Santomo crack per 2 milioni dopo la chiusura dei negozi in città arriva la sentenza sul fallimento e poi la cronaca arrestata spacciatrice madre di 12 figli Blizza Rancitelli in cella anche la figlia prima di proseguire con le altre pagine della cronaca di Pescara del centro è il momento alle 7.20 in punto di parlare di meteo non facciamo altro che farlo come tutte le mattine con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori Giovanni direi una domanda più che scontata perché ormai da giorni c'è questo tantam direi anche un po' martellante da parte di tutti gli organi di informazione tutti i siti tutti i giornali parlano di questo imminente arrivo di questa prima vera irruzione di aria fredda che ci sarà in Italia si parla di nevicate si parla di maltempo prolungato per diversi giorni neve che dovrebbe fare la sua comparsa anche sulle coste dell'Adriatico ti chiedo se tutte queste previsioni sono confermate se veramente arriverà questa ondata di freddo e se ovviamente per quello che puoi dirci perché come ci hai sempre spiegato andare oltre le 48 ore è sempre difficile fare previsioni dicevo se è confermata anche la possibilità che possa la neve fare la sua comparsa anche in riva al mare eh sì Paolo come hai detto giustamente tu hai anticipato benissimo il quadro della situazione la nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera eruzione di aria fredda la prima vera situazione invernale di questa stagione che fino a questo momento siamo stati interessati da una certa persistenza dell'alta pressione per oltre due mesi tant'è che a dicembre non è caduta una goccia d'acqua e questa è la vera anomalia ora si cambia decisamente registro ehm anche se oggi è previsto il passaggio di una perturbazione atlantica qui sto in diciamo a parlare di questa perturbazione che attraverserà la nostra regione tra il pomeriggio e le prime ore della mattinata di domani favorendo un peggioramento soprattutto sul settore occidentale della nostra regione sulla Marsica e nell'Aquilano perturbazione che sarà preceduta da un nuovo rinforzo dei venti occidentali quindi torna il Gardino delle raffiche localmente anche di una certa consistenza ma non sarà il vento che c'è stato fino all'altro ieri quindi nessun problema aumenteranno temporaneamente le temperature sul vessante orientale dove il tempo comunque sulla fascia orientale sarà migliore anche se arriverà questa perturbazione ci saranno degli annumolamenti ma la probabilità di fenomeni sarà piuttosto bassa è relegata soprattutto alla mattinata di venerdì ecco dopo questa perturbazione Paolo la tendenza è verso un nuovo peggioramento che si manifesterà a partire dal fine settimana perché è prevista l'arrivo di un nucleo di aria fredda proveniente dall'Europa settentrionale che romperà proprio sulle regioni adriatiche dai quadranti nord-orientali pescherà aria fredda quindi arriverà aria fredda proprio dai quadranti nord-orientali che determineranno una generale sensibile diminuzione delle temperature è un deciso peggioramento del tempo che si manifesterà nel corso della giornata di sabato dalla seconda metà della giornata di sabato dal pomeriggio ci saranno dei rovesci diffusi sulla nostra regione anche a carattere temporalesco con quota neve in calo fin verso le quote collinari nel corso del pomeriggio sera e nel corso della nottata mentre nella giornata di domenica il continuo a plus persistere di queste condizioni perturbate con venti molto forti dei quadranti settentrionali favoriranno una decisa ulteriore diminuzione delle temperature e con precipitazioni soprattutto lungo la fascia orientale della nostra regione e date le basse temperature previste saranno possibili nevicate fino a quote molto basse o pianeggianti localmente anche lungo la fascia costiera perché questa situazione appunto prevede una generale diminuzione delle temperature proprio tra domenica e lunedì poi diciamo quello che avverrà dopo Paolo è ancora piuttosto incerto è probabile che continueranno a manifestarsi degli annumolamenti con delle nevicate nel corso della giornata di lunedì ma successivamente insomma non c'è ancora un quadro chiaro perché potrebbe continuare sì il freddo ma è ancora presto per dirlo adesso ovviamente noi forniremo tutte le informazioni necessarie nel corso dei prossimi aggiornamenti Paolo perfetto Giovanni sei stato più che mai esaustivo dunque c'è poco da aggiungere dovrebbe veramente arrivare dunque questo maltempo questo freddo anche la neve e direi che dopo la siccità dei mesi scorsi probabilmente è anche giusto che tutto questo accada per i prossimi aggiornamenti ovviamente con te l'appuntamento e per domani sempre nel corso di mattino 6 grazie Giovanni buona giornata e buon lavoro grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 ringraziamo Giovanni De Palma dunque per restare aggiornati sull'evoluzione meteo più che mai importante in queste ore per l'annunciato peggioramento abbiamo il sito www.abruzzometeo.org del nostro meteorologo Giovanni De Palma con tutte le informazioni aggiornate in tempo reale poi c'è la pagina Facebook che potete usare utilizzare anche per interagire con il nostro meteorologo restare sempre informati sull'evoluzione del tempo nella nostra regione noi torniamo al centro stavamo leggendo le pagine di Pescara targhe alterne nuovo stop oggi circolano le dispori ma lo smog è crollato dunque dati sicuramente migliori migliorati lo hanno detto anche il sindaco Marco Alessandrini il vice sindaco Enzo Del Vecchio oltre alle condizioni meteo dicono ha giovato anche lo stop ancora cronaca di Pescara in alto vedete la Asle chiude il bar del comune blitz del NAS nell'azienda sanitaria rilevate carenze igieniche sospese all'attività e poi Pescara Porto riapre il cantiere e tornano le ruspe sulla riviera sud e poi una notizia che riguarda un incidente lascia l'ospedale e va in giro sull'asse attrezzato un uomo che era rimasto vittima di un incidente non grave in provincia di Pescara e poi è andato in ospedale e ha subito lasciato il nostro comide stato ritrovato che camminava ai margini dell'asse attrezzato e poi vedete attiva i precari occupano la sala consigliare protesta di 40 interni lari che raccolgono 217 firme e ottengono un incontro con lo staff del prefetto noi su questa vicenda abbiamo preparato un servizio che andiamo ad ascoltare insieme la protesta è iniziata sabato mattina dopo che non c'è stato l'accordo che tanto si era sperato per i lavoratori interinali di Attiva da questa mattina si è dato avvio a una raccolta firme in realtà sono già state superate le 200 firme e un'altra caratteristica è chi ha firmato qui hanno firmato oltre al cittadino di passaggio sono venuti a firmare politici destra sinistra tutti insomma possiamo vedere dai nomi che ci sono scritti hanno firmato tutti quanti stanno iniziando a sensibilizzare un po' tutti o è una una facciata lo fanno per far vedere o veramente credono a noi ma nessuno lo può dire ecco questa è una raccolta firme ma visto che si va ad oltranza con lo sciopero ricordiamo che voi dormite esattamente qua davanti al comune da diversi giorni cosa serve per cercare di mettere fine anche a questo sciopero e soprattutto a questa manifestazione perché ovviamente passano i giorni ma ci si attende qualcosa eh sì il nostro posto di lavoro quello per cui abbiamo studato da 8 anni al 31 di dicembre ma dall'avvio della protesta non avete più avuto notizia da parte delle istituzioni? alcuni sono venuti ma sono venuti a fare solo il comizio e le fotografie sotto gli strigioni per il resto non ci hanno detto niente noi abbiamo fatto la richiesta esplicita che i politici di là del marciapiede devono venire solo con fatti concreti alla mano da parte loro non c'è stato nessun segnale di avvicinamento nei nostri confronti noi siamo andati noi a nome della nostra associazione creata lì dentro quella tenda abbiamo chiesto l'incontro col prefetto e ci dovrebbero far sapere tra oggi e domani quando ci accoglierà e niente noi siamo ancora siamo molto ci hanno deluso perché per la Pescara Calcio si sono fatti vedere regione e vari pezzi forti per noi niente perché la Pescara Calcio vuol dire che è più importante di 70 patri di famiglia che stanno a dormire in quella tenda da sabato Questo è il servizio sulla protesta degli interinali di Attiva noi ci fermiamo per qualche istante poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di Mattino 6 Nuovo in studio Mattino 6 seconda parte siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara Torre via tutti gli ostacoli per arrivare in centro questo è il titolo principale che riguarda Torre dei Passeri aperto infatti l'atteso sottopasso ferroviario che agevola l'accesso ai treni in stazione e facilita i collegamenti con la periferia Francavilla Luciani spacca selle il Partito Democratico Forza Italia verso le primarie si parla di elezioni e poi c'è pagatti controlli medici e test gratuiti per la prevenzione dei tumori e Francavilla stop per decine di piccole atlete con stagio scusate con l'ex olimpionica Fabrizia Dottavio per decine di piccole atlete e poi a Francavilla al Mumi il duo Bosso Filippini e siamo alla pagina di Montesilvano del centro la prima pagina un centro per assistere 400 famiglie bisognose le signore della carità di San Vincenzo chiedono al comune una sede per rispondere alle richieste di mamme e bambini senza cibo e vestiti e poi sarà una città meno grigia grazie ai writer in commissioni nel regolamento per aprire gli spazi urbani e poi nuovi mercati già selezionati venditori per le bancarelle a Ranalli proseguiamo Spoltore servizi in rosso nominato un consulente sempre a Spoltore risorge la casa della cultura a gestirla sarà la parrocchia e poi a Moscufo la banca di credito cooperativo dona un defibrillatore tornando a Montesilvano centro sociale anziani si cambia a febbraio scade la convenzione con l'associazione vita di quartiere siamo ancora alla pagina della provincia di Pescara Rocco D'Alfonso chiamato nello staff del governatore Penne il sindaco uscente che vedete nella foto sta riflettendo sulla possibilità di rinunciare alla ricandidatura in vista del voto di maggio e poi Castiglione a Casauri abbazia chiusa per due giorni ai visitatori a Letto Manoppello si parla di turismo nei borghi mentre in basso Penne una cliente del Caffè dei Pini vince 30.000 euro vedete la felicità dei gestori del bar che si trova nel centro di Penne siamo alla pagina di Chieti in questo caso si parla di Lanciano della dynasty di Lanciano condannate Franco Maio e i figli la richiesta del PM nel processo sulle evasioni fiscali e le sponsorizzazioni con cui avrebbero raggirato il parente socio per il genitore la procura chiede due anni e quattro mesi per Valentina e Guglielmo Maio un anno e mezzo a testa e poi vedete si sveglia dal come far restare il compagno vasto ai carabinieri la donna racconta un anno di maltrattamenti e le botte della sera in cui fini KO e poi Ortona aggredito dal bandito e rapinato dell'auto prima di proseguire con le altre pagine del centro io passerei un attimo all'edizione di Chieti del centro perché proprio sull'edizione di Chieti del centro c'è un'importante notizia che riguarda la conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina in regione a Pescara perché si è parlato di università della nuova casa dello studente della nuova residenza per gli studenti che nascerà che dovrebbe nascere nella parte alta della città di Chieti ieri è stato presentato questo importante progetto dal governatore della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso era presente anche il sindaco di Chieti Umberto Di Primio e l'assessore Marinella Sclocco ecco la foto che riguarda la pagina e soprattutto anche la stretta di mano c'era anche Tonio Di Battista presidente dell'Azio di Chieti vedete uno studentato per 600 universitari in centro storico pronti 440 mila euro per rilanciare il recupero della caserma Pierantoni e dell'istituto Santa Maddalena noi ieri abbiamo seguito con la nostra Francesca Romana Testi questa conferenza stampa andiamo a vedere di cosa si tratta casa dello studente a Chieti in questo caso il comune metterà a disposizione due edifici e poi ci servirà qualcuno che lo gestisca ma si chiede alla regione di mettere a disposizione dei fondi sì un progetto complesso ma anche molto ben ormai strutturato il comune metterà a disposizione due immobili per oltre 12 mila metri quadrati di disponibilità dove realizzare due case dello studente nel centro storico la regione dovrà finanziare la progettazione e l'Azio avrà il compito l'azienda di retro studio avrà il compito di presentare una richiesta di finanziamento al ministero dello sviluppo della ricerca perché ci sia la possibilità di recuperare queste due strutture noi siamo molto fiduciosi perché fino ad oggi l'Abruzzo ha perso occasioni nella possibilità di intercettare questi fondi quindi questi fondi ci sono sono fondi regionali cioè nel senso che sono assegnati alle regioni italiane da parte del MIUR noi abbiamo un buon progetto perché integriamo benissimo quella che è la richiesta di recupero di mobili recuperiamo due mobili comunali la richiesta di nuova offerta nella Università di Chieti via poca residenza universitaria e soprattutto creiamo un circolo virtuoso tra Università Centro Storico Trasporto e ovviamente nuova residenza questa operazione importantissima sarà cofinanziata dalla regione con 440 mila euro già messi in bilancio e con il valore proprio dei due immobili perché il ministero finanzierà il restante 50% perché è importante questa operazione perché consentirà alla città di Chieti di rivitalizzare il proprio Centro Storico che oggi non è propriamente vitale e perché consentirà agli studenti che si iscriveranno che si vorranno iscrivere all'Università di Chieti di poter avere di poter godere di una casa dello studente rendendo quindi anche più attrattiva la nostra Università d'Annunzio Andiamo avanti siamo alla pagina dell'Aquila del Centro corruzione a processo gli stati e altri tre presunte tangenti nella ricostruzione post-terremoto sarà richiesta la testimonianza di Berlusconi Bertolaso e Letta beve l'acido giovane in gravi condizioni l'Aquila ricoverato in rialiminazione in prognosi riservato dopo aver ingerito una sostanza corrosiva e poi droga condannati Pescaresi Gargivolo dieci anni a testa con il rito abbreviato dopo gli oltre 70 arresti della maxi operazione ellenica siamo alla pagina di Teramo tracce di un uomo sui vestiti di Giulia svolta nell'inchiesta per la morte della giovane a Tortoreto della 19enne di Tortoreto che era stata dilaniata sulla corsia dell'autostrada a 14 queste tracce le hanno trovate Iris sui brandelli di stoffa la ragazza ha avuto un rapporto prima di morire la domanda è con chi e dunque ci sono queste indagini e si potrebbe davvero arrivare ad una svolta per chiarire la morte di questa giovanissima ragazza che tanto dolore ha provocato nell'intera comunità di Tortoreto ma direi in tutta la regione e poi cronaca siamo a Pineto tira a fuoco sotto la galleria in A14 anziani e bimbi in fuga tra le fiamme oltre 80 le auto bloccate tanti mezzi dei soccorritori e tanti uomini della polizia autostradale del 118 dei vigili del fuoco al lavoro per liberare le auto proprio all'interno della galleria e c'è una testimonianza di un dializzato di Silvi che racconta ha avuto paura di morire siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme il messaggio le pagine del messaggero Abruzzo e poi della città di Teramo e poi al termine andremo a vedere anche i titoli delle prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali siamo al messaggero prima pagina corruzione gli stati a giudizio l'abbiamo visto anche dal centro anche un diamante tra le tangenti Daniela ex assessore regionale oggi in carica ad Avezzano il padre Ezio accusati per i lavori post sisma l'ex compagno e due imprenditori tra gli imputati e poi in assi in ospedale farmaci scaduti e letti in corsia blizza al policlinico di Chieti decine di malati parcheggiati sulle barelle in arrivo le denunce poi vedete la fotonotizia smog a picco le targhe alterne restano a Pescara e poi politica ad Alfonso Berlusconi patto per il turismo con razzi mediatore il senatore annuncia lo storico incontro lo vedrà in veste di imprenditore e interessato al porto turistico di Pescara treni veloci per Roma in metropolitana di superficie l'Abruzzo conta sull'amministratore delegato di Trenitalia Morgante l'Aquila abitazione equivalente il 50% ha ricomprato fuori delle 595 richieste 486 hanno già ricevuto il contributo definitivo di 125 milioni di euro gettonatissima Roma ma anche le città della costa come Pescara Alba Adriatica e Tortoreto invediamo in basso lo stalker seriale per ora sceglie di non rispondere ai magistrati siamo alla cronaca giudiziaria e poi ancora cronaca giudiziaria condannati due agenti gole profonde con il rito abbreviato avrebbero fornito notizie ricoperte da segreto per favorire la famiglia dei Ditella sede unica dell'Arap a Pescara è rivolta all'Aquila l'ipotesi sui nuclei industriali allo studio fa gridare allo scippo imprese sindacati poi Banca Etruria di Pizzoli il comitato risparmiatori non molla e invece parlando di innovazione sul bus come in ufficio si lavora in mobilità siamo ad Acquasanta telecamera affidato l'appalto per il nuovo stadio dell'Acquasanta dell'Aquila e poi Paganica ingerisce acido in gravi condizioni e l'indagine timbro falsificato a giudizio del tosto siamo alla pagina di Avezzano Sulmona corruzione a giudizio Daniela ed Ezio Stati la vicenda riguarda favori per appalti del post-sisma alla sbarra anche Marco Buzzelli e gli imprenditori Angeloni Valle del Giovenco Calcio e Stornelli della Selex Avezzano forestale e polizia due denunce per ruberie a Sulmona furto in centro scatta un arresto e poi commercio in centro passeggiata nel deserto siamo ancora a Sulmona e sempre nella città Peligna assunzione al museo il comune si difende infine Avezzano centenario del sisma chiuse le celebrazioni siamo alla pagina alle pagine di Pescara del Messaggero polveri sottili ai minimi la cura va avanti l'arta riscontra dati buoni in tre centraline su quattro confermate le targhe alterne oggi si fermano quelle pari e circoleranno le dispari e poi visita sorpresa carenze igienico strutturali bar del comune chiuso dal nas e poi la paura una bomba esploderà in tribunale alta tensione ma era un falso allarme e poi bici e treno accoppiata vincente da Pescara centro a città Sant'Angelo in pochi minuti la metropolitana di superficie così è già realtà e poi vigile forestale in prima linea emergenze per vento forte e incendi lavori ad Alcione diventerà un pezzo di Miami il nuovo proprietario Luca Cardano svena la second life dello stabilimento sarà un beach club di livello internazionale e poi il piano contestato cemento in spiaggia anche i balneatori contro tassa di soggiorno il via a primavera cronaca mamma e figlia spacciatrici doppio arresto in famiglia attiva blitz degli interinali in comune ieri hanno occupato la sala consigliere abbiamo visto il servizio della nostra Francesca Romanatesi e poi due D'Alfonso il sindaco di Penne Rocco D'Alfonso nello staff del governatore Luciano D'Alfonso e siamo alla pagina di Chieti letti in corsia e farmaci scaduti in ospedale scatta il blitz del NAS e poi casa dello studente firmato l'accordo università-regione abbiamo visto il servizio recupero ex caserma Berardi ratificato l'accordo di programma e poi proseguiamo stagione teatrale aggiunge un posto a tavola biglietti a ruba al teatro Marruccino di Chieti e poi i tecnici nella discarica dei veleni prima fase l'esame dei rifiuti già bruciati per la bonifica progetto da 450 mila euro siamo alla pagina di Lanciano Vastortona l'auto prende fuoco casa devastata è accaduto a Lanciano guerra tra i maio il PM Benegni chiede condanne per 5 imputati su 7 e poi a Casalbordino ridusse la compagna in fin di vita arrestato agricoltore cinquantenne infine Ortona niente più fondi regionali chiude l'enoteca da Abruzzo siamo alla pagina di Teramo e Teramo provincia si era finto cieco ora sarà processato è accaduto proprio nel capoluogo a Prutino poi soluzione lontana per il caso del multipiano e poi c'è la denuncia in aumento gli allacci non richiesti di luce e gas a fondo pagina Tercas azionisti e fondazione nel processo questo è il punto interrogativo chiedono di essere ammessi all'ipotetico risarcimento in caso di condanna e poi invece parlando di teatro c'è Lunetta Savino al teatro comunale di Teramo inferno sull'A14 sfiorata la tragedia la fuga degli automobilisti le temperature nelle vicinanze del camion incendiato hanno raggiunto i mille gradi vedete una foto è davvero importante il lavoro dei soccorritori Montori Alvomano il rogo della Boscaglia ha minacciato l'abitato a Martinsicuro la vertenza ve con gli operai pronti alla mobilitazione Giulianova distrugge la biglietteria per rubare arrestato sempre a Giulianova bollette rifiuti sono solo stangate infine Roseto elezioni battaglia sulla sicurezza siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo passare però al quotidiano la città di Teramo e poi avremo invece le pagine che riguardano proprio lo sport anche il sport nazionale la città ha iniziato il processo al crack Tercas questo è il titolo principale andiamo avanti Abruzzo evasione chiesta la condanna dei Maio all'Aquila apre lo sportello anti-mobbing nuova Pescara i radicali chiedono che si discuta la proposta di legge crack Tercas ha iniziato il processo al sistema di Matteo il giudice ammette altre due parti civili fondazione Pescara Abruzzo e 30 azionisti assistiti da Feder Consumatori ma al tempo le fiamme minacciano le case di Montorio il vento alimenta un vasto incendio che ha visto impegnate tre squadre dei vigili del fuoco e due Canadair per tutto il giorno politica Dodo la risposta a Brucchi resta un dilemma se accettasse o meno l'assessorato la sua civica rischierebbe comunque di perdere pezzi e intanto sostiene il pollito Romanelli si legge in questo titolo a giudizio il finto cieco che leggeva giornali giudice fissa al 20 aprile il processo per Abramo Pompili ex impiegato di un'associazione di categoria andiamo ancora avanti il PD interviene sul parcheggio sfigato Maurizio Verna perché deve ricomprarlo l'asel non era il privato che doveva completarlo questo il titolo su questa vicenda del parcheggio restyling corso si riparte il 25 gennaio restyling del corso di Teramo fino a Piazza Martiri e poi siamo alle pagine della provincia la galleria resterà chiusa per una settimana parliamo della galleria dove è accaduto l'incidente di cui abbiamo visto vi abbiamo dato notizia anche con gli altri articoli del centro del messaggero Val Vibrata Civitella si salva dalla mazzata Imu con la legge di stabilità torna all'esenzione dalla tassa sui terreni agricoli tortoreto danni ai palazzetti il comune spenderebbe meno per la videosorveglianza Giulianova Mociano arrestato dopo l'inseguimento sui binari tenta il colpo alla biglietteria della stazione ma viene preso dai carabinieri siamo ancora alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi politica silvaluola lontana dai cittadini scusate da PD e centrodestra nessuna presa di posizione sui mille problemi della città e poi la proposta ronde cittadine scontro sulla paternità dell'idea scontro del 20% sulla Tari per chi usa le compostiere poi cultura un bel paese da zero e porto zero arriviamo allo sport la presentazione ieri del nuovo acquisto del Teramo forte a Teramo per giocare 17 finali presentato il nuovo acquisto bianco-rosso il presidente Campitelli dice è stato sempre il nostro primo obiettivo e noi con Jacopo Forcella andiamo a vedere proprio la presentazione del neoattaccante bianco-rosso come la società che ha bisogno come diceva il presidente ha bisogno di riaccendere la miccia della bomba che può esplodere da un momento all'altro perché siamo tutti quanti sia io che la piazza la squadra il mister una bomba pronta a esplodere perché abbiamo tutti quanti voglia di riscatto Francesco Forte dalla Cremonesi a Teramo passando solo per un attimo per l'Inter con la speranza via Teramo magari di tornarci sicuramente io non nascondo di essere ambizioso ovviamente è un sogno però penso che con il lavoro con l'impegno soprattutto nei momenti difficili non mollare mai cercare sempre di dare qualcosa in più perché nei momenti difficili bisogna dare qualcosa in più che manca evidentemente perché altrimenti ci sarebbe stato un momento difficile quindi bisogna reagire io sono pronto a mettermi in gioco e a dare comunque a far vedere quanta voglia ho io di dimostrare il mio valore il Presidente Campitelli ha detto forte è sempre stato il nostro primo obiettivo per i gol che sono mancati fino ad adesso al Teramo questo pesa o dà più stimoli? ma io penso che come ha detto il Presidente l'attaccante comunque deve subire certe pressioni soprattutto anche deve prendersi le proprie responsabilità ovviamente io sono qui a disposizione della squadra e del mister quando verrò chiamato in casa darò il mio contributo e ovviamente il mio mestiere è fare gol quindi bisogna buttarla dentro Sabato Lancona potevi essere dall'altra parte alla fine l'ha spuntata il Teramo sarà una partita si riparte col girone di ritorno hai detto sono qui per disputare 17 finali sì assolutamente sono 17 battaglie perché purtroppo con la penalizzazione la posizione è quella che è quindi sappiamo i ragazzi li ho visti molto carichi quindi sono molto contento di aver trovato questo gruppo ovviamente la partita con Lancona è una tappa fondamentale perché come ho detto tutte le partite qui alla fine saranno fondamentali ma perché abbiamo secondo me le capacità di vincerle tutte quante siamo le pagine dello sport dopo aver visto la pagina dello sport riguardante il Teramo sulla città pagina dello sport del centro prima pagina sport nazionale pallotta affida la Roma Spalletti Spalletti nuovo tecnico dei giallorossi e poi il Milan salva Mianovic e vola in semifinale 2 a 1 con il Carpi ieri sera a San Siro dinanzi a 12.000 spettatori i gol per la formazione rossonera di Bacca e Nyang e Mancosu invece in rete per la formazione emiliana Milan che affronterà in semifinale di Coppa Italia la vincente della sfida fra Spezia e Alessandria andiamo avanti per vedere le pagine che riguardano lo sport regionale il Pescara scarica Domizi e punta su Spolli chiusa la telenovela con l'Udinese si apre la pista del difensore del Carpi e poi contro gli Amaranto torna Campagnaro notiziario biancazzurro con Campagnaro che è tornato ad allenarsi con i compagni dopo lo stop dell'altro giorno nel Livorno mutti con il dubbio Emerson e poi si torna a parlare del patto per aiutare il Pescara il sindaco Alessandrini dice c'è l'impegno degli imprenditori a sostenere il club e il progetto Sebastiani ricorderete il famoso pranzo di qualche giorno fa nel trabocco di Vincenzo Marinelli dove c'erano tanti imprenditori abruzzesi il governatore della regione Luciano D'Alfonso e anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini Virtus due rinforzi ecco Vitale e Udo doppio arrivo dalla Juve dal Bari preso il terzino salviato proseguiamo Lega Pro si parla dell'Aquila ci aspettiamo 10-12 punti di pedanità questa diciamo la la previsione della società Rosso Blu e poi Dos Santos la gomitata gli costa tre giornate parliamo del Chieti squalificato il bomber per tre giornate poi forte d'ora in poi 17 finali mi ispiro a Diego Costa abbiamo ascoltato l'intervista e poi infine Roger Weortona insieme per la solidarietà basket a due a Chieti ieri sera la gara amichevole incasso alla Onlus dei bambini siamo alle pagine dello sport del messaggero e Pescara si lancia su Spolli dunque finita la telenovella Domizi giocatore del Carpi diventa la prima scelta Campagnaro recupera e Collivorno ci sarà siamo a Lanciano presi salviato Vitale e Udo queste le notizie che riguardano il Lanciano nuovo assalto per avere Mammarella del Bari la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore e siamo alla vicenda l'Aquila tempi lunghi per avere la sentenza il presidente Chiodi siamo offesi da questa situazione andiamo avanti ma siamo pronti a chiedere i danni alla FIGC e poi il Teramo trova il centrocampista preso Cruciani mancherebbe solo l'ufficialità e poi il calcio di eccellenza Anzivino nuovo tecnico della Folgore San Buceto chiudiamo con le pagine dello sport regionale di centro messaggero e quotidiano la città di Teramo siamo abbiamo il tempo di vedere anche i titoli che riguardano la diciamo i quotidiani sportivi nazionali per quanto riguarda le prime pagine partiamo dalla gazzetta la gazzetta dello sport vediamo un attimo se possiamo inquadrare la rosa ecco qui la prima pagina della gazzetta dello sport Milan Mialovic salvo Rabona e assist Bacca spiana la strada ma non basta i norsonieri soffrono troppo Sinisa è ancora in bilico leggiamo buon avvio con il 2 a 0 ma nella ripresa gli emiliani segnano e restano in corsa sino alla fine per quanto riguarda gli altri titoli Juventus scongiuri Bonucci noi il pericolo Sarri fa il furbo e poi Napoli Guaino non è solo tante vie per i gol si punta anche su Obiang lasciamo la gazzetta dello sport siamo al corriere dello sport ovviamente il titolo principale anche in questo caso riguarda il Milan Sinisa avanti Milan in semifinale col Fiatone 2 a 1 al Carpi in alto pallotta Roma si può vincere nuovo allenatore e Spalletti euforia Napoli lo spingeranno in 100.000 tra campionato e coppe poi Juventus Zidane vuole Pogba nel suo Real e chiudiamo con tutto sport Zizou non ci provare Pogba torna nel mirino del Real Madrid Toro è invece riesplosa vedete la foto la Ciro mania la Ciro mania perché Ciro Immobile un nuovo giocatore del Torino è tornato a vestire la maglia Granata ed è stato accolto all'aeroporto da oltre 2.000 tifosi siamo giunti al termine così del nostro appuntamento quotidiano con Mattino 6 prima di salutarvi vi do una notizia che è giunta da pochissimi minuti in redazione che riguarda la cronaca perché questa mattina c'è stata un'operazione della squadra mobile di Pescara che ha sgominato una gang di giovanissimi che nei mesi scorsi aveva seminato il panico nella zona proprio di Pescara con rapine e aggressioni 11 le persone indagate un giovane è stato arrestato due ragazzi sono stati invece sottoposti all'obbligo di dimora fra gli 11 indagati c'è anche un minorenne ulteriori particolari su questa inchiesta su questa operazione portata avanti e conclusa questa mattina dagli agenti della squadra mobile della questura di Pescara saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina alle 11 in questura a Pescara e noi nel corso della prima edizione del TG6 alle 14 ovviamente vi forniremo il servizio su questa operazione della squadra mobile di Pescara è davvero tutto grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di giornata per averci seguito grazie a tutti